Ecco qua carissimi amici ci troviamo dalla dolciaria Domenico Soraci Entriamo un attimino Signor Domenico Buonasera Possiamo farvi visita nel laboratorio? Benvenuti Grazie, grazie Io sono Franca Crudi Zungri dell'associazione Asfalantea Domenico Soraci E stiamo facendo la lavorazione dei mostaccioni Ah hai visto, hai visto Qua io vi faccio questi due belli cavallucci Ma non li facciamo altri I cavallucci, qua a bandiera La bandiera mi camminava prima Qua abbiamo un nonno Un nonno è l'artista Sì, sì, è da generazioni Un nonno Giuseppe Un nonno Giuseppe Un nonno Giuseppe Che sta facendo un nonno Giuseppe? Due caprette, quelle su due cavalli Queste su due cavalli, sì E ora voi state facendo la capretta? Sì Ah, ci state facendo l'occhio Ci faccio tutto? Ci faccio tutto Nonno Giuseppe è un artista Quanto è nonno Giuseppe che c'è questa docciaria? Questa è la terza generazione Questa è la terza generazione, Domenico? Erano i suoi antenati, i nonni I nonni Mio padre E adesso è la mia generazione È la tua Mi immagino che continua pure con i figli Che stai preparando tu dopo, Domenico? S Vi faccio una bella lavorazione Questa è una S I vari disegni sono di origine greca Avete capito? E rappresenta? Questo è il simbolo, la S La S Adesso faccio un pezzo I ricordi che si facevano agli anni Negli anni non li portiamo avanti con amore E' sempre le stesse forme Sempre fatte a mano Se vedi che ho facuto con amore questo lavoro E poi è un impasto di miele e farina Questo è solo miele e farina Il mio è anche delle nostre qua Delle vicinanze Un ragazzo di qua Infatti Domenico io ti volevo domandare un attimino Proprio a materia prima Miele e farina A farina, che farina è? Domenico Doppio zero per oggi Doppio zero Ma tu mi dicevi che la lavorazione è fatta Come a lavorare noi giorno prima La sera viene fatto il primo impasto Sì Viene fatto tutta la sera Si prepara la sera E si lascia un impasto più morbido Sì Portato in ebollizione No, è da bollire A riscaldare il miele a temperatura Si mette il miele nell'impastatrice E si aggiunge della farina Lasciandola un po' Un impasto più morbido E sarebbe il primo impasto Che tutto viene messo E viene preparato la sera Come vi dicevo Il giorno seguente La mattina Praticamente oggi Noi andiamo a mettere della farina Fino a portarla a condizioni Che noi la possiamo lavorare Vedi capito? E questo qua Poi man mano Decidiamo noi Vediamo noi pure Quanto farina dobbiamo mettere Perché è una pasta che si deve E si Perché poi a mano a mano La farina Quanto vuole se ne prende E poi Come il pane L'acqua se ne prende Quanto vuole Poi si modella Man mano Come vuole La pasta che vuole fare Il segno Il pesce In questo caso Sto facendo il pesce Sto preparando Sempre come si faceva Allora La lavorazione è chida Sempre in la vota Sempre a mano Un prodotto Sempre In poche parole Non cambia questo modente Non è come ingredienti Non è come ingredienti E né come lavorazione La lavorazione Stai vedendo che È proprio autentica Come una vota Guarda il nonno Guarda il nonno Come è artistico Guarda Sto facendo un capolavoro Questo è un cervo Il nonno Che è questo qua? Quale? Questo che è? Questa è una capra Ah, la capra Ah, la vipruna Ah, la vipruna Guardate Guardate Che capolavoro Poi Ci sono vari Domenico Io sono qua Perché promuoviamo Territorio Ebbene Così E le tradizioni Non le perdiamo Anche Guardate Lo faccio pure Come si dice Zungri Soriano Perché siamo vicini Soriano Avevano pure Belle tradizioni Stiamo facendo questo Questa cosa qua Che ancora Le macchine Non ci sono Se c'erano le macchette È tanto Che c'erano Intanto io Seguo un anno Perché un anno Sta facendo Un capolavoro Si Se vede Che le mani Sono artistiche Vedi come i modelli Voi vedi tu Come faccio Sto ciucciarello Vedi qua? No Guarda Guarda Che sta la pasta Che sta la pasta Che lavora Tarsera Sì E adesso Abbiamo fatto Ecco Ecco Guardate Guardate Che capolavoro Guardate In tempo In tempi rapidissimi Diffici proprio Come si dice Non basta solo Stilizzato Eh sì Mi permetti che io voglio un attimino Vecchi mestieri Che ormai si stanno perdendo Quindi noi mi portiamo avanti Nonno Giuseppe E poi Manteniamo A tradizioni Certo Questo è un lavoro Che ho fatto Proprio a Domenico Ora su Tallocchimeni E ho fatto A Ferruzza Fammelo vedere Però noi chiamiamo Corteno Ma non è Corteno Un corteno senza lama Senza lama Un attenzio Che è chiamato Ferruzza Un pezzo di legno Per fare gli occhi Altre Fammi vedere Questo legno Mentre lo c'è Domenico Un legno di brughera Ah un legno di brughera Un legno di brughera Una volta Noi da un legno di brughera Sai che facciamo Tizzo nostro Facciamo una schiccia Pondiana Ho sbrutato mondiale E voi mi immagino Quello sapete pure Che chiede Domenico Eh certo Siamo sempre noi Eh sì Calabria Calabria E grazie Lo vedi tu Portiamo avanti Guarda qua Mi si decora Domenico Bravo Bravo Con quanta Con quanta amore Vedete questo un anno Che tocca la pasta Guardate Con tanto amore Con tanta passione Si vede Che ho avuto Che cosa angolarti Mi deve credere che Che stiamo in poche parole Domenico Veneno Non fornati Allora Se si lasciano Anche domani Per esempio Una volta lavorato Se si lasciano A riposare Anche domani Anche domani Anche domani E' normale E' normale Che si stai cotto Che è cotto Domenico mi sta facendo Vedere Com'è che si fanno I biscotti I biscotti I biscotti Che noi giustamente Chiamiamo i mastazzoli Vero Domenico? Sì Noi li chiamavamo Le marzallette Fassoriano Che sono i biscotti Al miele Con le mandorle Che si possono avere Sia morbidi Duri Quelli che abbiamo fatto Sì Vedere poco fa Praticamente L'impasto Una volta già pronto Per lavorare Si mette sul tavolo E si pesa In base a quanto vuole Fare il pacchetto Perché il peso si fa Per regolarci il pacchetto Alla fine Perché questo Adesso si fanno Come i filoncini di pane Vengono lavorati così Vengono lavorati così Si fanno E poi Una volta Messi nelle teglie Si portano nel forno E si tagliano Alla prima cottura Vedi Che male maestosa Sì A due minuti Ficcia la fascia Questi si fanno così Si lasciano E si mettono nel forno E giustamente Tutta questa misura C'è vero Domenico? Il peso è sempre quello Praticamente si lavora E cominciamo a fare I biscotti Una volta cotti Si tagliano Se li vogliamo morbidi Le lasciamo nelle teglie E li portiamo A confezionamento Sempre a mano Sì O poi Per farli Oppure per farli essicchi Praticamente essiccarli Si mettono nuovamente al forno A 130 gradi Per uno meno E si fanno i biscotti duri La differenza Tra morbidi e turi E solo L'esseccazione L'esseccazione Sì Infatti Sì Questa è la Racconti come si tratta Ecco qua Bene Non ti faccio un altro Domenico E veloce veloce Ed è pronto Ed è pronta La teglia Questo è il sistema Che facciamo noi Ecco qua La teglia è pronta Non è una vendita Non è una vendita dei mercati È più delle feste Delle fere patronali Sì sì Perché quando ci fanno Fanno le feste patronali Non può mancare Mastazzola E noi giustamente Cattiamo pure come tradizione C'è un marito mio Che non si ricorda C'è una casa senza rimasta Solo Ogni tanto Dice Ma chi vuoi No Dicenti Tradizione Che mi cattiamo Ed è così Pure in anni Cattavano i genitori Tutti E quindi Manteniamo i tradizioni Guarda che io Sono Attratto Questo lavoro Che una volta Si usava Portare le casse in legno Se le vedete qua Sì Le ho fatti fare nuove Perché Quello che avevo Come fare Non lo potete Inziare Intanto seguimo Puro un anno Peppe I cani Che stanno lavorando Sarebbero quelli là Le casse Sì A cassa A cassa E una volta L'esposizione del mostacciolo Per l'esposizione del mostacciolo E non quelle casse A cassa Praticamente Adesso noi L'abbiamo modellata Nel senso che Sì sì Però E una volta Mi diceva mio padre Che praticamente Andando fuori A vendere I prodotti In quelle casse Alla fine Che vendevano Tutti i prodotti Praticamente Si vendevano Pure le casse Che gli dava Domenico Ti posso dire una cosa Sì A cassa A cassa Addovinando Nostra Tenendo pure Il pane tosto La tradizione Che era io Mio padre Mi diceva pure Che si vendevano Queste casse A cassa Per mettere La dote E i figli Quando Tutta A cassa A cassa Aveva tanti Tanti usi E addirittura Si vendevano Pure le casse E certo Sì sì A cassa Tenendo i pani Che si conservava bene Tenendo i figli Tenendo tutto Vivere Bene maestosi Bene Domenico Io ti ringrazio Della tua Testimonianza E quindi Io cerco Di portare Tradizione avanti Noi stiamo Lavorando Un po' Pani E quindi Vinuto e trovo Con l'associazione Aspalantea Che voglio La lavorazione Dei biscotti Se avviciniamo E poi Sì sì Stai vedendo Io Hai tanta Manualità Io non stiamo Portando avanti La tradizione Dei pani E voglio Promuovere Territorio Bene Domenico Ci aggiorniamo Allora E grazie di tutto Grazie a voi E è stata gentilissima Grazie a voi A voi